Dopo Ancona, Pro Sesto e Potenza, anche il Mantova si iscrive alla corsa per Vincenzo Plescia. Il centravanti della prima parte della stagione è inanellato 14 presenze, sigla un gol e collezionato due assist. Il calciatore è pronto a partire in prestito a confermare l'interesse e il direttore sportivo dei Virgiliani, Alessandro Battisti. Stiamo cercando un attaccante e sicuramente Plescia ha tutte le caratteristiche che noi stiamo cercando. Sono un giocatore che comunque, malgrado una fase un po' in salita quest'anno, però penso che abbia le qualità e le possibilità per fare bene sicuramente in questo periodo. Ha avuto modo di parlare con il direttore di Somm? Diciamo che qualche chiacchia l'abbiamo fatta. Ovviamente bisogna sempre aspettare come succede in questo periodo, che comunque entrino i giocatori prima di far uscire altri, cosa più decomprensibile. Quindi sicuramente aspetteremo, così come ci sono altre squadre che sono interessate da ragazzi, però vediamo come siano le soluzioni. Grazie.